Si è spento a Milano, a 96 anni, Monsignor Giovanni Barbareschi, ribelle per amore e protagonista dell'antifascismo cattolico. Nato l'11 febbraio 1922, partecipò giovanissimo, insieme al beato Teresio Olivelli, alla fondazione del giornale Il Ribelle e alle attività clandestine delle Aquilerandage, un gruppo scout che contribuì a portare in salvo, in Svizzera, ebrei, militari alleati e ricercati politici. Nell'agosto 1944, giovanissimo diacono fu inviato dal cardinale Il Defonso Schuster a benedire le salme dei partigiani uccisi in piazzale Loreto. Ordinato sacerdote, pochi giorni dopo fu arrestato mentre preparava la fuga di alcuni ebrei, incarcerato a San Vittore e torturato finché il cardinale Schuster non ne ottenne la liberazione. La mia resistenza vera è cominciata così, aiutando degli ebrei, perché mi sembrava doveroso, come è stato per me doveroso, dopo il 25 aprile, salvare dei fascisti. Con la parola salvare intendo toglierli all'esecuzione di massa. Cappellano dei partigiani in Val Camonica, Don Barbareschi fu ancora arrestato, ma riuscì a fuggire. Corriere di fiducia tra i comandi alleato e tedesco durante le trattative che portarono alla fine del conflitto si adoperò poi per evitare rappresaglie contro gli sconfitti. Medaglia d'argento della resistenza nel dopoguerra tornò all'attività pastorale e all'insegnamento. Amico e curatore testamentario di Don Carlo Gnocchi ricevette l'ambrogino d'oro nel 2011 e nel 2014 fu accolto tra i giusti tra le nazioni.